VUOTO Ma come? Dove sono finiti? VUOTO VUOTO Dove ci denti sono finiti? Tutto ciò non ha senso Dammi una mano Sì, 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 ci sono Qualcuno vede l'auto? Perché io non vedo auto Non capisco Diavolo Sicura sia il posto giusto? Sì, la porta verde è sicura Nate, stiamo perdendo tempo qui Quella valigetta sembra sempre più invitante Andiamo, non possono essere svaniti nel nulla Ci sarà una spiegazione Dividiamoci e cerchiamo Sono passati di qua Sento ancora i gas di scarico Ehi, per di qua Guardate Tracce di ruote Ancora bagnate L'auto deve aver svoltato qui Dovresti essere tu quello furbo Che ci sfugge Ehi, guardate qua Una sorta di meccanismo Sì, forse Quattro gomme, quattro punti di contatto Sally, stai fermo lì Voi due, state là e là Ok, tutti Altre, pronti? Uno, due, tre E... Beh, deve essere questo Aspetta Aspetta, la luce Sally, punta la luce alla parete Sì, come dei fanali Oh, Abra, che cazzo cadavra Nate, ma con chi abbiamo a che fare? Ah, c'è solo un modo per scoprirlo Noi seguiamo l'auto Tu torna al furgone Restiamo in contatto radio Ti avviso non appena arriviamo dall'altra parte Ovunque essa sia Preparati a tutto Anche a schizzare via Contaci Ma il miglior pilota in circolazione sei? Ho sentito dire Chi, è un'altra parte Noi, non ho sentito Ma è un'altra parte 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 Siamo tutti d'accordo che è alquanto strano. Chi mai scenderebbe in alto nel sottosuolo? Aspetta che ci penso. Qualcuno che non vuole essere seguito è solo un'ipotesi. Geniale. Sembra siano entrati dritti nei vecchi tunnel di servizio. Merda. Un piccolo cieco. Beh, dovremo trovare un'altra strada. Ehi, guardate. È chiuso. Non per vuoto. Forza. Possiamo passare da qui. Forse. Procedi, Macduff. Che diavolo. Cosa? Avanti e avanti, Macduff. Ti spiacerebbe accelerare? Tutto bene là dietro? Sì, sì. Sai, io ho solo qualche problema con gli spazi stretti tutto qui. Pensa ad avanzare. Oh, grazie al cielo. Che diavolo è Macduff? È Shakespeare, razza di ignorante. Cos'è stato? Cos'è stato? Li vedo! È il colpo. Complimenti. Grazie. 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 Ok, il tunnel è qui sotto. Almeno la direzione è giusta. Wow, è profondo un bel po. Attentasi, scivola. Ce ne sono altri giù. Aspettate che siano vicini. Ok, quando vuoi. Cavolo, ci sai fare? Ehi, là su c'è un passaggio. È una scala? Sì, ma sembra bloccata. Vediamo se riesco a smuoverla. Senti, arriva. Cosa si fa? Quello lassù sembra un cancello. Nate, spingimi. Penso di raggiungere il lato destro. No, no, fai pure con calma. Ehi, Cutter, e dare una mano? Sì, ti aiuto io. Ok, pronto. Tira! Ci sono! Ok, Charlie, forza! Ok, Charlie, forza!